musica 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 Quanto sinistro in arrivo? Altri detriti? Un'altra in arrivo alla sua sinistra? Grun in arrivo Sì Braille, io vedo la testa Tra le lupole, signore, come sempre Il terreno si avvicina Occhio Sistemi attivi Appena in tempo, devo prendere un aereo Non puoi sfuggire, passato, stai Questo è da vedere Barbara, mi senti? A parte il vento, sì, ti salto Signore, c'è un enorme breccio nello scappo Fermo, Triday Parlami di qualcosa da qui, non sono appena saltato Scansiono Un incendio ai motori richiede la sua attenzione Seconda esplosione nel motore di destra, signore Ricevuto Sistema del incendio attivato Ah, c'è un tanto congelato Perfetto, problema ascoltato il video Ottimo, signore Signore, il pilota automatico non risponde Il jet è destinato a schiantarsi in una zona navigata Penso io, il pilota automatico Non ferma il rumo pericoloso Disse l'uomo saltato giù dall'aereo Notizie dell'ospite misteriosa Ha interronto ogni puntato radio Ma i suoi seduti stanno raschiando alla porta Lascia di entrare Non sono appena saltato Ascoltato, lascia di entrare Ascoltato, il pilota di destra Non si può essere assicurata 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 Un po' di più Vape! Friday, che stai facendo? Scalzioni per Miss Pots. Dovresti potenziare il pare. La nostra amica ha alterato i sistemi. Il mostro è su dai circuiti del jet. Non ricevo più segnali da Miss Pots. Vape, mi senti? Nemici in vista! Vape! Fate rispondi! Vape! Tutto bene lì? Tommy, ho un treno del jet! Ho altre buone notizie. Signore, altri nemici. Dai, cosa ho detto? Tenage! Anderio, come va a succedere? Puoi essere un'inopla di condizioni di due sanzi. Lo siano comunale sarà al viento, lo sapremo. Ehi, scusate! Non riesco a mirare! Signore, la lezione in sinistra è danneggiata. Lo puoi riparare! Sentirà un colpo d'ala? Sì, ma va meglio. Ho localizzato una pista per l'atterraggio. Grazie, Friday. Webber, pensi di farcela da sola? C'è un solo modo per scoprirlo. Abbasso il caderno. Il caderno d'atterraggio non funziona. Certo. Prima di un desiderio. È tutto tuo, Babber. Sì, è arrivato a posto. È fatta. Complimenti a entrambi. Se nessuno ha obiezioni, io direi di tornare a casa. Signore, rileviamo un problema energetico. Altre nemici? Eh, siamo quasi ad annoia. Sì. Minacce neutralizzate. Ma avverto la presenza della nostra amica. Friday. È tormento il Colossi. In comando, sono bloccati. È tormento dal radar. Lo vedo. Risorgi il problema. Sistemi attivi. Tom, i comandi sono in maniera. Signore, non abbiamo più il controllo del genere. Webber, troviamo uscita. Il corpo, in passola cammina. Sono un'altra cosa. Guardi giocatori, c'è un pariamento risposta. Su come pericolo, porta il carrello al territorio. Troppo! Sto scendendo. Vediamo sotto al jet. Oh no! Vabbè, dammi la mano! Tony! Ben, è tenuta sulla tua incidenza.